La prima del 1800 che è una, due, tre, quattro e una da Sant'Ernone e dopo forse che... e due piede... la differenza è che lo ha tirato il murino io tiravo il riso, cioè cavato in una buccia al riso, al riso che sopra esatto invece la buria che dicevamo... se stiamo in italiano, non è vero? si Mibio Mibio mi ha fatto girare e poi ti fa sempre la scelta del viglio in paese perché l'acqua succo la fa fritto io adesso la torno indorio perché... mi ha detto... mi ha detto che... mi ha detto che... mi ha detto... mi ha detto che... se non lo vi è potremo filmare che fuori un po' e portavo in coppa perché non era mia per torno e lì 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 Grazie. 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 Grazie.